A Erika che è collegata e a quale cedo la parola. Grazie Erika. Grazie a te Maliangela e grazie a tutti per questo invito e per questa occasione di parlare di acqua da tanti punti di vista e con tante sfaccettature diverse. Perché l'acqua è una realtà tutta in movimento che si può vedere da tanti punti di vista. Allora, appunto il mio compito è di parlare di Olimpiadi, di queste Olimpiadi insostenibili. La data sembrerebbe ancora lontana, no? 2026. In realtà è vicinissima, infatti i lavori sono già incominciati sia in città Milano sia sulle montagne e nelle varie regioni coinvolte. Ora, partiamo da questo ragionamento. Con tutte le plurime, diciamo, emergenze da cui siamo sommersi, che sono, ve le ripeto, ma le sapete benissimo anche meglio di me, sono l'emergenza climatica, sanitaria, economica, energetica, sociale, idrica, e non è un elenco tanto per farlo, no? È proprio la realtà in cui stiamo vivendo. Nonostante tutte queste emergenze, che sono sotto gli occhi di tutti, queste Olimpiadi invernali si devono fare per forza, a costo di inventarsi la neve. Non solo quella artificiale, che ha alti costi energetici, idrici e ambientali, perché quella artificiale è anche inquinante, perché ha dentro dei componenti chimici, no? Per farla durare di più. Quindi non solo quella artificiale, ma addirittura si sposta la neve naturale con camion o in alta quota, con camion da un posto all'altro, o in alta quota addirittura con elicotteri, no? Cioè siamo arrivati sostanzialmente a questa follia che già si sta facendo e che per queste Olimpiadi andrà ovviamente alle stelle. Alcuni paesi che erano in lizza per queste Olimpiadi hanno rinunciato e hanno anche fatto una mossa democratica, cioè un referendum tra la popolazione. E la popolazione ha avuto la lungimiranza e il buon senso di dire di no, perché ormai da anni abbiamo capito che i grandi eventi non pagano più. Abbiamo in casa un esempio, no? Che voi torinesi conoscete molto bene. Dalle Olimpiadi del 2006 mi sono piombati addosso un mare di debiti che hanno fatto di Torino una delle cinque città più indebitate d'Italia, insieme a Palermo, Napoli, Catanzaro, eccetera, no? E spero che non vi capiti anche a voi quello che è successo recentemente a Napoli, perché proprio per la questione del dissesto economico e dell'altezza del debito è stato fatto questo patto micidiale che li costringe, il patto tra governo, regione e comune, che ricorda un po' la Grecia ai tempi di Tsipras, che li costringerà alla privatizzazione di una serie di beni pubblici e beni comuni, purtroppo. Spero che non succeda anche a Torino. Comunque, laddove hanno rinunciato a queste Olimpiadi è perché hanno capito perfettamente che non aveva un senso positivo andare incontro a questo grande evento, perché ci saranno grandi guadagni per i costruttori, gli speculatori immobiliari e tutto il carrozzone che i grandi eventi si portano dietro. Per gli enti pubblici, cioè per tutti noi, sarà un grande spreco di soldi, debiti che si accumulano e devastazione. È chiaro che si tratta di una partita milionaria, perché questi giochi sono un pretesto in sostanza, diventano anche un pretesto per sbloccare una serie di interventi urbanistici e rilanciare lo sci nella sua versione più insostenibile. Dappertutto, infatti, se voi guardate, vedete che sono programmate nuove piste, nuovi impianti, tutti con innevamento artificiale. Pensate che per queste piste che devono essere ricoperte dalla neve artificiale ci vogliono milioni di metri cubi di acqua, milioni di metri cubi di acqua, senza contare tutte le stazioni di pompaggio e i chilometri di tubature. Milioni di metri cubi di acqua in una situazione, sappiamo tutti, di emergenza idrica e di siccità. Forse tutta questa acqua sarebbe meglio risparmiarla, utilizzarla al momento opportuno per irrigare e cose simili. Però questo problema non si considera. Le Olimpiadi si devono fare e questa acqua va messa lì, va sprecata lì. E poi c'è l'assalto alle montagne. Abbiamo sbancamenti, taglio di centinaia di alberi, cementificazioni, infrastrutture dappertutto, sapendo che queste cose verranno sostanzialmente in tre regioni, le montagne di tre regioni sono coinvolte, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, sapendo che il sistema montano è già in crisi. In particolare le Dolomiti, e ci hanno già dato pesanti segni in questo senso, sono un sistema assolutamente in crisi. L'ultimo esempio è stato il crollo del ghiacciaio della Marmolada, però anche questo sembra che non esista. Si useranno, poi veniamo al problema dei fondi, si useranno in parte fondi del Comitato Olimpico, poi fondi regionali, fondi degli enti locali e soprattutto fondi del PNRR, come prevede il decreto Olimpiadi. Ora, usare a questo scopo i fondi del PNRR è chiaramente una cosa che grida vendetta, no? Se solo pensiamo a sanità e scuola, che il PNRR pesantemente ha sottofinanziato per realtà fondamentali, per il benessere di una popolazione, per l'emancipazione di una popolazione, da anni beni comuni sociali che vengono assolutamente sottofinanziati. Adesso i soldi del PNRR si mettono anche sulle Olimpiadi in misura non indifferente. Veniamo a Milano. A Milano le piste saranno quelle su ghiaccio. Allora, qui di nuovo torna pesantemente in questione l'acqua, no? Perché con cosa lo fai il ghiaccio? Lo fai con l'acqua. In una città che è ai confini, come sapete, del Parco Agricolo Sud di Milano, che è il parco agricolo più grande d'Europa e che a causa della siccità quest'estate ha sofferto moltissimo. Sono morte intere coltivazioni prima di arrivare a maturazione. Allora, noi abbiamo alle porte la fotografia di questo disastro e l'acqua, invece di tenerla come scorta per quando si ripeterà il fenomeno e si ripeterà, perché sapete meglio di me che questa siccità non è cascata così per caso, no? Ma è frutto di cambiamenti climatici e quindi è destinata a peggiorare nel tempo, no? Si costruiscono quindi una serie di palazzi del ghiaccio dove si faranno le gare, pattinaggio artistico, velocità, occhi e cose di questo genere. Se ne costruiranno, come diceva, come ricordava Maria Angela, cinque, cioè in realtà due saranno costruiti ex novo e tre saranno strutture che verranno ripristinate. Ditemi voi, cosa sono cinque palazzi del ghiaccio a Milano? È chiaro che poi ci saranno delle riconversioni, no? Però è una cosa comunque assolutamente folle. Voglio ricordare in particolare quello che succederà in uno dei quartieri periferici di Milano che è Santa Giulia dove verrà costruito il Pala Italia, questo palazzo del ghiaccio con 16.000 posti. I lavori inizieranno alla fine del 22 perché prima devono fare un'opera di bonifica perché oltretutto è un'area inquinata e con questi lavori per le Olimpiadi che cosa succede? Succede il completamento di un quartiere con l'edificazione di 400.000 metri quadri di superficie a destinazione residenziale in aggiunta ai 250.000 già edificati e poi seguiranno tutte le opere infrastrutturali previste per le Olimpiadi, no? Perché a questo palazzo del ghiaccio bisognerà arrivare in modo molto agevole quindi ci saranno una serie di svincoli, una serie di snodi, eccetera, eccetera, no? Perché ho ricordato in particolare questo esempio macroscopico di urbanizzazione? Perché tutto questo ha strettamente a che fare con l'acqua perché la cementificazione, la copertura con gli asfalti oltre a far morire il suolo crea problemi al drenaggio dell'acqua che diventa praticamente inesistente, l'acqua dilava su superfici impermeabili e crea anche disastri in alcune situazioni e in più si rende difficoltosa la ricarica delle falde. E stiamo parlando di una città come Milano che ha già coperto di asfalto e cemento quasi 58 e rotti, quindi quasi il 60% di suolo e questi sono dati ISPRA, quindi assolutamente inconfutabili. Allora, questa è una situazione con un enorme dispendio di acqua e di energia, no? Perché anche l'energia non sarà secondaria. in tutta questa operazione, in una situazione in cui c'è questa famosa crisi energetica che sappiamo tutti di origine soprattutto speculativa, ma che nei fatti sta facendo lievitare tutti i costi. Poi avremo allo scalo di Porta Romana il villaggio olimpico, anche qui 164 mila metri quadri da edificare e su un'area pubblica, attenzione, su un'area pubblica che era pubblica, privatizzata e ceduta a grandi speculatori immobiliari che i nomi girano ormai dappertutto, sono i soliti, Coima, Covivio, Catella, Fondazione Prada, eccetera, no? Ora, dopo le Olimpiadi è chiaro che scatteranno tutta una serie di ulteriori operazioni immobiliari, considerando che per esempio l'area di questo scalo, abbandonata da tempo, si era rinaturalizzata, sostanzialmente era diventata un'area verde, quindi noi diciamo Milano che sta soffocando, perché è la città più inquinata d'Europa, Milano che sta soffocando e ha bisogno di verde, tu quest'area qui lasciala verde, no? No, ci fai sopra il villaggio olimpico e favorisci la speculazione edilizia poi di una serie di grandi strutture immobiliari. Oltretutto per evitare quelli che loro chiamano inutili problemi burocratici e per rispettare i tempi, e questo è un problema che si ripresenta sempre nei grandi eventi e nelle grandi opere, no? Nella legge di bilancio del 2020 si dice che, scusate ma mi è successo qualcosa sullo schermo, mi sentite? Mi sentite? Ti sentiamo e ti vediamo. Ah, invece io non vi vedo più e questa cosa mi ha spaventato molto perché ho schiacciato una cosa per sbaglio, però se voi mi sentite e vedete va benissimo. Allora, per evitare questi inutili problemi burocratici, nella legge di bilancio del 2020 si dice che le opere connesse all'Olimpiadi potranno essere autorizzate con una VAS, cioè una valutazione ambientale strategica semplificata, in tempi dimezzati e con tutte le deroghe possibili e immaginabili. Chiaro che tutto questo a sua volta prepara il terreno ha colossali operazioni speculative. Da notare che il capo del distretto antimafia di Milano ha già sollevato problemi di trasparenza perché tutti questi lavori vengono attuati da subappalti, di subappalti, di subappalti. Non si vede mai la fine della catena. Sapendo che a Milano e in Lombardia in generale, il movimento terra, tutta l'opera di movimento terra collegata con l'edilizia, è in gran parte infiltrata se non addirittura proprio in mano all'andrangheta. Draghi poi ha messo a sovrintendere a tutto questo affare Scaroni, l'ex presidente Eni che recentemente si è salvato per un pelo dal processo per corruzione internazionale. Questo è il bel quadro rassicurante in cui ci stiamo muovendo. arriveranno moltissimi soldi, ci sarà un fiume di denaro, la Lombardia avrà dal governo 473 milioni per efficientare le infrastrutture, lo stesso la regione ha stanziato 575 milioni sempre per le infrastrutture, in una regione già pesantissimamente infrastrutturata. Il governo aveva già stanziato 2 miliardi con il decreto aiuti di inizio agosto di quest'anno Draghi ha stanziato ulteriori 500 milioni per le opere indispensabili. Ora, cosa centrassero le Olimpiadi nel decreto aiuti è tutto da capire. Il succo è non sono proprio Olimpiadi a costo zero come avevano detto, come aveva detto il nostro sindaco, come aveva detto il nostro presidente di regione, non sono a costo zero e non sono assolutamente green. Avranno un altissimo impatto economico e ambientale e l'acqua è sicuramente la prima vittima disegnata perché se tu dissesti un territorio, distruggi degli ecosistemi, è chiaro che aggredisci anche il ciclo dell'acqua che è un ciclo assolutamente delicato che va, andrebbe protetto e salvaguardato. Ci muoviamo invece in un modo assolutamente contrario e questo è un ulteriore motivo quello dell'aggressione all'acqua per dire di no a questo evento. Come diceva Mariangela stiamo cercando a Milano di creare un coordinamento specifico sulla questione olimpiadi perché vogliamo in qualche modo che si sentano, si sappia, che non si taccia su questa cosa, ci sia una controinformazione, una mobilitazione che spieghi alla gente che cosa significano queste olimpiadi. Noi non è che ce l'abbiamo con gli sportivi, lo sport va benissimo ma lo sport non è sport se aggredisce e distrugge la natura. Quindi c'è questo cortocircuito che va spiegato e va capito perché è estremamente importante. Questo per questo momento specifico da qui al 2026 e anche per tutte le altre grandi invenzioni di grandi eventi che potessero venire in mente a qualcuno. Si capisca che non è più epoca di grandi opere e grandi interventi ma è epoca di curare la natura, i beni comuni e le popolazioni. Vi ringrazio. Grazie. 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 Grazie.